www.faltzares.it Il giù di Falzares serve il sud dei biei champanili di Dolomite. Nostra averti in cui il pitel champanile di Falzares. Ma è un po' di lavoro? Si. Ma è un po' di questo? È un po' di questo. È un po' di questa. È un po' di questa via. È un po' di Emilio Comici e la mer di Varale. È un po' di 1934. È un po' di questo? Non, 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 non. Non, 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 non. È un po' di questo. È un po' di questo. È un po' di questo. Mi compagno di corda è Alex Ploner. L'athlete di San Cianci ha venuto più a tutti i campionati mondi di Cigul Jullon. Ci sono molto più preoccupati. C'è di chi sa che ha un grande aspetto per l'altà che sono attaccato a Crapi e con il posto, quindi se vuoi che la prospettiva fosse stata un po' particolare. E per questo, il risultato non è la parola giusta, ma non è tutto tranquillo. La via che è criata è una classica scala di conosciuta con difficoltà in chi è al quinto grado. Una delle pizzele più sauride del gran alpinista Emilio Comici. La Comici è stata super con la crescita, come vedete, è un po' particolare. Ci sono sette tratti di corda, che vuol dire che è un po' di 230 metri di arpizzetta, più manco, e ha un ruo in due ore in mezzo, tre ore in giù. E poi non si può fare l'aurella. Ci sono un po' particolare, un po' compagno, un po' particolare, perché ci sono una bella via. C'è un po' particolare, in quanto riguarda la gran viera del Kindesci d'Otto, ci sono stati italiani abbiano una luogia che pittava protezione. Il nemico austriaco non fa via da l'onche. C'è un po' particolare che si è un po' particolare. la comunità dei saudi avevano la minaccia di un'immagine l'inverno freddo e dalvino avevano pensato che la gente aveva avevano pensato con il suo fin di non essere divertito qui è l'abbiamo Alex tu sei bello? mi sembrava che non so ma non so non so non so non so No, non c'è l'interno. Alla prossima. Cosa pensi che siamo sottotitoli a riservato? Non c'è più di più, non c'è più di più. Non, non c'è più di più, ma è veramente un po' di più. Cosa? 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 Per se perdere, mi sono nervoso. Per Alex, in cui è tutto nuovo, ha dovuto lasciare una mazzeria che non lo conosce, e, in questo modo, che vede la creta a 6 compagni di corda. Per quanto riguarda il giulone, lo dipendono più da loro stessi, da l'azione di una persona sola. In quanto riguarda il incontro, vengono le decisioni importanti da due persone. L'accords di un popolo, non ci Strategi in difficoltà, non ci sono in un popolo, con il risultato anche in un popolo. È un popolo, Ci sono spiegati a tutto. La pizza va a visitare un pollo o di Deguni. Sì. Sì. Ok. ... La prima critica della via comici sul pit del Champanile di Falcares è stata un pluriei. Una situazione potrebbe straniere la idea, ma che non si possa promuovere il corpo, non si può andare in un progetto. Molto cosa potrebbe cominciare con un tratto di più di più. Ma il parello è calcolato. Ci saranno nuovi persone, che ci saranno il corpo. La natura non si può dare una linea che ci rispetti, ma non si può essere più sposti di più di più di più. Cosa cosa passa fuori per il tratto, Alex? No, non è più meglio. Certo che nel Sant'Ninio ci sono un elemento. Sono molto bello, ma non è un peso. Un tratto di corda ha una lunghezza di 30 e 50 metri. Il plan di avanza in Schilam può essere più di più, come si piace che il miglior sostenibile per la vista del secondo tratto. Il tratto comincia a sentire, per Alex è una sensazione nuova, da scuviare che si succede per altri. non è un po' di più. Non è un po' di più, ma non è un po' di più. ma non è un po' di più, ma non è un po' di più. ma non è un po' di più, ma non è un po' di più. 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 Non ci sono un po' di più. Non è un po' di più. È un po' di più. Non ho pensato, perché secondo me, chi fa un legno di sport di sicurezza, ma non è un po' di più. Il rispetto per la natura e il pericolo sono due elementi che caratterizzano anche l'autosporto. Il rispetto per la natura e il pericolo sono due elementi che caratterizzano anche l'autosporto. Giugno e Giacroppe sono due attività che ha piuttosto la persona, daibola e l'uomo, fanno un grande ambiente naturale. Il mondo di vivere si muovono con l'armonia e l'umiltà. L'amore di vivere. Ma come si fanno? Ah, non lo so, ma non si fanno. Non so, ma sono già messa. Questa è la bia, però vai a fare la rocola. Cosa, c'è un po' di noi. Cosa, c'è un po' di grossi amici. Cosa, c'è un po' di stagione. Cosa, c'è un po' di stagione. Cosa. Cosa, c'è un po' di stagione. Questa è importante che ci sono delle matrici che tocca. Quanto è molto bello, che si arriva all'interno, quando qualcuno ha fatto il terzo, mi ha fatto il trezzo, perché io ho fatto il terzo, perché io ho fatto il suo figlio, perché io ho fatto il suo figlio, e in questo modo, perché io ho fatto il suo figlio, perché io ho fatto il suo figlio. E la costa di arrivo, che è un compagno guida, e quando ti racconta, come al dite io pensi che non andiamo con chi va e chi chora lunga, quindi vigno un altro elemento. La maggiore soddisfazione di giure è che quando si sono buoni giure, quasi si è vicino. La maggiore soddisfazione di giure è l'Aquila, e quando ti capisci le condizioni, quando ti capisci le condizioni per durare il Deltà al meglio, quando ti capisci è una grande soddisfazione, perché ti capisci di dare l'elemento. L'ultimo traccio sulla cresta del champanile può essere più bene. La sensazione dell'azirezza che è già andato su, è la mia immaginazione giù un blina, come una sensazione che non poteva sapere. e sulla cresta il ciò che fa con il giudio, Ciò che ala che il giudio, ha parts gili, si può essere assicciato del senso, perché ci lasciano spiegare come una parola sola. Lidetta. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non, non. Non, non. Non c'è un problema per te. Ma non ci puoi lasciare il piede di Pesce, ma non ci puoi lasciare il piede di Pesce. Prima, puoi lasciare il piede di Pesce. Come ci ho detto, il gruppo che fanno il piede, non ci puoi lasciare il piede. Ok. Non ci puoi lasciare il piede, non ci puoi lasciare il piede. Ci l'è? Perfetto. Tutta fiducia! Ok. Per giù ce calon si ries in corda d'opla, e tenneura s'arranzinò di reversa sul fondo segura. Lì c'è forte! C'è un pizzo che giù real! Un po' di più! 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 Un po' di più!